Nel cuore di Rotonda in Basilicata nasce il Borgo Ospitale, albergo diffuso per vivere la cultura lucana, alloggi dislocati in strutture confortevoli, centro benessere e eufrasia per momenti di relax. Il Borgo Ospitale, via Mordini 1, Rotonda, Potenza. Si dividono la posta cittanovese Rotonda nel match valevole per il campionato di serie D Girone I. Tra i biancoverdi tornano disponibili Boscaglia e Valenti e Mr. Boncore mette dentro fin dall'inizio il neacquisto Sesai. Torna a disposizione in rosa anche Michel Ferreira. Padrone di casa in vantaggio al primo acuto, Bottalico e Valente combinano un mezzo pasticcio, Crucitti ne approfitta. Lo scarico immediato per Dorato che da due passi infila Calandra in uscita. Match subito in salita per l'undici lucano. Sulle ali dell'entusiasmo i giallorossi si portano in maniera più convinta nella metà campo biancoverde. Il destro dalla tre quarti di Silenzi finisce di poco alto. Ancora Silenzi poco dopo ruba palla a Sanzone, punta la porta ospite, ci mette una pezza Calaiò. Con quest'azione si conclude anche il primo tempo. Un primo tempo di chiara marca giallorossa. Nella ripresa la musica cambia. Al nono minuto azione avvolgente del Rotonda. Sesai riceve sulla destra immediato il lancio nello spazio per Fricano. Guadagna il fondo il numero 77 e mette in mezzo per Saverino anticipato. Goretta la rimette in mezzo per Valenti che di destro centra in pieno la traversa. La pressione dei Lucani si fa sempre più costante. Ancora Valenti al dodicesimo. Ruba palla e dal limite lascia partire una rasoiata che sfiora la porta calabrese. Ormai c'è una sola squadra in campo. Al ventunesimo Boscaglia in pressione conquista palla e favorisce il possesso dal limite di Saverino che carica il destro. Il tiro è forte ma centrale. Para a terra la tella. Al ventunesimo il tiro cross di Santa Maria impegna in angolo il portiere calabrese. Sull'angolo conseguente Rotonda passa. Parabola perfetta per Sanzone che in mezza acrobazia trova l'angolo impossibile. Niente da fare per la Tella e Lucani che raggiungono uno strameritato pareggio. Pareggio che per quello che Rotonda ha fatto vedere nella ripresa potrebbe stare stretto ai biancoverdi.